Ciao e benvenuti su MyFootballGelsey, io sono Stefano e oggi vedremo insieme le differenze tra la versione player, che è quella che indosso, e la versione fan della quarta maglia del Paris Saint Germain. Indossate le maglie sono praticamente uguali, questa che vedete è la versione player e questa è la versione fan, molto simili se non identiche, ma andremo a vedere poi nei particolari quali sono le differenze. Ora vi lascio alla vista dei dettagli, ci vediamo dopo, ciao! Le maglie da lontano sono pressoché identiche, ma se le si guarda da vicino si notano alcune piccole differenze, ad esempio nella versione player i loghi sono termosaldati e la trama è molto più ricercata, molto più traspirante. Nella versione fan scusate, invece come vedete loghi e sia lo stemma del club sono ricamati e la trama è un pochino meno elaborata. Da lontano non si vedono grandi differenze, ma poi come vedremo successivamente queste si vedono eccome. Quindi dicevamo il logo e stemma da una parte sono termosaldati e dall'altra sono ricamati. Il colletto è uguale, l'etichetta da una parte è di color oro e dall'altra parte di color argento lateralmente sono identiche, ma quello che si vede particolarmente è la differenza nella trama, nella player molto più traspirante. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che abbiate avuto la possibilità di apprezzare le differenze tra le due persone. Ora prima di lasciarvi vi prego di regalarci un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao!